bene amici buongiorno a tutti ben trovati sul canale quest'oggi voglio portare avanti il mio progetto di rendere il più domotica possibile casa mia per quanto si possa acquistare dispositivi intelligenti per quanto si possa rendere smart una qualsiasi azione quotidiana alla base di una buona domoticizzazione di casa c'era una cosa essenziale ovvero la connessione a internet e proprio per questo oggi ho questo bel pacco che andremo a scoprire assieme ecco qua un imballo gigante ma la scatola era grande la metà ho acquistato questi approfittando del del prime day allo stato attuale a casa mia ho una fibra misto rame mi arriva il segnale principale a pian terreno e da lì con il modem del mio operatore tramite extender piuttosto che access point piuttosto che rete cablata distribuiscono segnala internet in tutta casa mia però ho delle sottoreti o ssd differenti di conseguenza con questo prodotto voglio andare a creare una rete internet unica con un segnale wifi molto più potente rispetto a quello che ho ora è un sistema questo caso io ho preso il sistema a tre moduli ma potete ampliarlo senza problemi a 4 a 5 a 6 in base alle vostre esigenze diciamo che questo sistema a tre moduli mi garantisce una copertura fino a 300 metri quadri ben abbondantemente al di sopra delle mie esigenze però avendo una casa più piani garantiscono una copertura migliore tra un piano e l'altro in sostanza come funziona ci sarà un modulo principale collegato direttamente al vostro al vostro modem router e gli altri due moduli li dovrete collegare a una distanza sufficiente per recuperare il segnale dal primo modulo andranno a creare un'unica rete wifi con un segnale molto più potente che a differenza di prima dove collegandosi a un extender piuttosto che a un access point magari si disconnettevano da uno e si riconnettevano all'altro perdendo comunque segnale che perché i ripetitori di segnale cosa fanno più li allontanate dal segnale principale più ripetono quel poco di segnale che riescono a recuperare quindi anche che sia il cento per cento il segnale nuovo che voi ricevete sarà sempre il cento per cento di quel poco segnale che già ricevevano loro mentre questi creano un il loro punto di forza con questa tecnologia mesh e avere il cento per cento della velocità di connessione dal primo all'ultimo modulo evitando sbalzi di connessione ma avendo una continuità di connessione tra un modulo e l'altro qualora voi vi avvicinate di più a un cubo piuttosto che all'altro entrando nel loro raggio d'azione in automatico si andranno ad attaccare al segnale del modulo a voi più vicino garantendovi così un segnale sempre ottimale e una continuità di connessione appunto tutto sommato sono anche eleganti da vedere che possono sia essere appoggiati sia appesi al muro un tasto di reset una porta one lan una porta lan e l'ingresso l'alimentazione i tre trasformatori per dare corrente e un cavo ethernet di cui non c'è scritta la categoria però un cavo ethernet semplicissimo che vi servirà per cosa per collegare il primo dei tre cubotti al vostro modem col cavo direttamente mentre gli altri due saranno i satelliti e andranno collegati semplicemente alla corrente istruzioni anche in italiano ora procedo con l'installazione e vediamo un po le prime impressioni Grazie 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 Bene amici, ho appena completato la configurazione della mia rete. Potete collegare, se non erro, fino a un massimo di 9 satelliti, se non ho letto male. E con i moduli che ho preso io, potete collegare fino a un massimo di 80 dispositivi. Il che, almeno per quanto sono le mie esigenze, è l'asta grande. Però ho un piccolo neo. Ho fatto più fatica a trovare la dislocazione giusta all'interno della mia casa di questi satelliti rispetto all'installazione e la configurazione vera e propria di questa nuova rete Wi-Fi. Perché devono stare a non più di 10 metri di distanza l'uno dall'altro per creare proprio una maglia fitta di segnale che vi permette una copertura massima di casa vostra. Però a mio avviso sarà il massetto in cemento, saranno gli isolanti che ci sono nei muri, non lo so. Fa un po' di fatica, tant'è che ho dovuto ingegnarmi un attimino, nel senso che ho dovuto sfruttare, per quanto riguarda il piano di sopra, quel cavo che avevo tirato, cosa ho fatto? Al mio nodo principale l'ho collegato al mio modem, tramite la porta One LAN. E poi, dalla porta LAN, sempre dello stesso nodo, ho collegato il cavo che va al piano di sopra. Al piano di sopra, cosa ho fatto? L'ho messo in prossimità di dove arrivava il cavo Ethernet e l'ho collegato anche lì alla porta One LAN del nodo al piano superiore, di modo che mi arriva il segnale col cavo, anche sopra, e poi si diffonde con il Wi-Fi del modulo stesso. Ho una copertura, così facendo, in maniera eccellente. Mi arriva un segnale di circa 100-105 MB e riesco a sfruttarlo appieno. Questo è l'escamotage che ho dovuto utilizzare io per permettermi una copertura migliore. Logicamente, dovessi aver bisogno di una copertura maggiore in altri punti dove mi accorgerò nel tempo, perché l'ho appena montato, che il segnale è leggermente più debole, posso ampliare la mia rete con dei moduli aggiuntivi. Però, così facendo, mi sto creando un'unica rete a cui voglio far collegare tutti i dispositivi di domotica, che siano i robot aspirapolveri, che siano gli attuatori per tappare le elettriche, che siano comandi per luce. Insomma, tutto quello che è l'impianto di domotica che sto facendo, voglio sfruttare questa rete Wi-Fi dedicata. Comunque, detto questo, ragazzi, spero, come al solito, che il video vi sia piaciuto, o quantomeno sia stato utile a qualcuno che, come me, era interessato a questo tipo di prodotti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like. Se volete supportarmi, condividete, con i vostri amici, con i vostri parenti, insomma, condividete il più possibile. E un saluto dal vostro MaxReview. A presto, ciao! Alexa, abbassa tapparella a camera matrimoniale. Ok. Alexa, dia al Roborock di pulire casa. Advio della pulizia. Alexa, accendi TV. Ok.